Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come San Giovanni sconvolge tutti, il cantante uscito dalla scuola di amici, cambia look, il cambiamento è sconvolgente San Giovanni.Ormai è una vera e propria star della musica, parliamo infatti del giovanissimo San Giovanni Il giovane infatti è riuscito ad ottenere un grande successo grazie alla partecipazione ad amici di Maria De Filippi che per lo stesso cantante è stato veramente un trampolino di lancio per la sua bellissima carriera Con la sua musica infatti ha fatto impazzire le ragazzine ed oggi gode di un ottimo successo Dopo il grande esordio a Sanremo, pare che San Giovanni sia tornato a stupire il suo pubblico San Giovanni infatti ha deciso di cambiare completamente look e stupire il suo vasto pubblico San Giovanni il brutale cambio look.Il bravissimo cantante è tornato di nuovo riportando nel mondo della musica un nuovo singolo che sarà presto su tutte le piattaforme il 25 marzo Ma a quanto pare oltre alla nuova canzone, San Giovanni ha voluto stupire i suoi fans anche con un nuovo look davvero insolito Il giovane infatti ha postato sui social una foto di lui con un look davvero sconvolgente San Giovanni infatti ha postato sui social una foto sui social di lui con capelli totalmente rasati e senza maglia Un cambiamento davvero radicale quello di San Giovanni che si è fatto conoscere anche grazie alla sua folta capigliatura Sta di fatto che i fans sono rimasti senza parole e alcune anche molto male Ma in molti non sanno che quella postata dai San Giovanni è una foto vecchia prima di entrare all'interno della scuola di amici Eppure in molti credono che il cambiamento ci sia stato davvero, o semplicemente che abbia usato un vecchio scatto proprio per il suo nuovo singolo San Giovanni.Ma in molti si sono chiesti come l'abbia presa la dolcissima fidanzata Giulia, ex ballerina e vincitrice di Amici Al momento quello che sappiamo è che San Giovanni sta cercando di lasciarci tutti sulle spine Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video